Si è svolto come preannunciato nella frazione di Cologna a Roseto degli Abruzzi il consiglio straordinario sulla questione del progetto del quarto lotto della Teramo Mare, alla presenza di decine di cittadine e diverse autorità provinciali, regionali e nazionali. Un incontro fortemente voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco costiero Mario Nugnes che contesta il tracciato perché il progetto approvato da ANAS passerà a sud del fiume Tordino nel territorio di Roseto. Per quanto ci riguarda un finale positivo, una risoluzione votata all'unanimità che dice che si è, come d'altronde i cittadini e i portatori di interesse ci hanno spinto a fare, contrari all'attuale formulazione della progettazione ma contrari nel senso che si va verso un miglioramento, quello cioè di salvaguardare i terreni agricoli di pregio del nostro territorio, quello di mettere in sicurezza a livello idrogeologico e quindi di rischio e sondazioni largine del fiume Tordino, quello appunto di mettersi in ascolto di un territorio che non era stato coinvolto dal 2018 ad oggi su una tematica così importante. Appena la mia amministrazione con tutto il consiglio maggioranza opposizione ha inteso allargare questo consiglio straordinario per la prima volta a Colonia Spiaggia, i coloniesi hanno risposto in maniera massiva e hanno dato il loro contributo di presenza e di idee. A gennaio ci sarà la conferenza dei servizi sul progetto definitivo dove si potranno presentare le osservazioni all'intervento. La maggioranza degli intervenuti vuole l'infrastruttura ma chiede di mettere in sicurezza il fiume Tordino. La vostra richiesta non potrebbe bloccare un po' l'iter per l'avvio dei lavori? Allora premesso che c'è un commissario che sta portando avanti e come sappiamo in Italia quando le opere vengono commissariate vanno avanti, dalla parte nostra abbiamo invece voluto dare forza alle osservazioni che la mia amministrazione ha presentato nei tempi dovuti. Ricordiamo che questo progetto è stato pubblicato il 28 di luglio, poi messo sul sito del Ministero nei primi di agosto. Noi nei tempi consentiti della legge abbiamo presentato due osservazioni che vanno nella direzione che la risoluzione ha rafforzato con la firma di tutti i consiglieri. Ciò adesso dovrà essere portato avanti nella conferenza dei servizi che si indirà sulla progettazione esecutiva, ma soprattutto abbiamo chiesto, ho chiesto ieri a gran voce al termine del Consiglio, agli intervenuti, soprattutto ai politici intervenuti, di esserci vicini. Di certo è un'opera strutturale, un'opera strategica, mi è piaciuto ieri averla definita la Roma Mare che si andrà a completare, ma è ovvio bisogna farla non a tutti i costi, ma il costo deve essere poi commisurato a un beneficio, il beneficio è quello della viabilità, deve essere commisurato però alla vivibilità e quindi il perseguimento di tale fine deve essere la priorità per i cittadini.